Ben giuti, oggi parliamo di uno degli eventi più visti al mondo, uno degli eventi sportivi più visti al mondo, il trofeo Vince Lombardi Trophy, anche detto Super Bowl. Siamo arrivati alla 56esima edizione e che vedrà di fronte i Cincinnati Bengals contro i Los Angeles Reigns. Perché guardarlo? L'abbiamo già detto, è uno degli eventi più visti al mondo, ma soprattutto i playoff ci hanno offerto uno spettacolo incredibile e quindi non ci possiamo perdere quel Super Bowl che è per niente scontato. Non sapremo chi vincerà fino alla fine, se sarà come il playoff. Quindi attenzione, mettiamoci la massima attenzione, ci buttiamo sul divano e ci prepariamo a guardare nella lute il Super Bowl. E dove lo possiamo guardare? Presto detto, ci sono tre possibilità. A gratis, a pagamento o come evento? Eccolo qua, prima possibilità, a gratis sulla Mamma Rai nella notte, come ho detto, fra domenica e lunedì. Eccolo qui, inizia il collegamento lunedì a mezzanotte 15. Eccolo qua, dalla guida TV lo possiamo scorgere e ce lo guardiamo. Altrimenti, in abbonamento su Dazon che ha mandato tutta l'NFL, tutta la stagione d'NFL. Guardiamo sul calendario, eccolo qua. Lo troviamo in collegamento dalle ore 23 e 55. Eccolo qui, pronti, il nostro Super Bowl commentato in italiano come per la Rai. Altrimenti, ultima possibilità, come abbiamo visto anche nell'altro video, vi fate il Game Pass e potete anche comprarlo come evento simile. Ciao a tutti da Spettacolone e buona visione!